Oggi è la giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti, al Policlinico abbiamo scelto di dedicare questa giornata alla sicurezza sul profilo della gestione del farmaco. Evidentemente per noi è centrale garantire che i nostri pazienti non solo abbiano le terapie farmacologiche appropriate per il loro bisogno, ma che poi siano confidenti nella relazione con i nostri professionisti per togliersi ogni dubbio sulle terapie, per essere costantemente in grado di modificare la stessa, per far sì che quella terapia garantisca la massima utilità per loro. Evidentemente oggi è una giornata, ma questo impegno è l'impegno costante che tutto l'anno accompagnerà l'iniziativa del Policlinico delle nostre strutture e dei nostri professionisti. I farmaci ci salvano la vita, per salvarci la vita però dobbiamo essere noi pazienti informati e costantemente allineati a quelle che sono le indicazioni dei nostri professionisti.